fermiamoci un attimo qui dimmi Ernesto come mai vuoi fermarti qui? aspetta dimmi, sei bello? si sei sempre bello, come mai ti vuoi fermare qui? perché voglio fare un videomessaggio a chi vuoi fare un videomessaggio? a tutti i miei amici, agli amici che mi seguono ma sono hanno 3 e 4 gli amici che ti seguono meglio pochi ma buoni dai su facciamo questo videomessaggio tanti auguri di buon Natale amici ma come auguri di buon Natale Ernesto? eh si, vedi ci sono tutte queste lucine, guarda tutti gli alberi illuminati ma Ernesto ma non è Natale è che semplicemente hanno lasciato qui gli addobbi all'esterno del locale ma non è Natale Ernesto dai senti andiamo a casa perché ho fame è tardi eh no 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 aspetta magari possiamo fare il video e prepararlo per il prossimo anno ma che no dai Ernesto andiamo a casa che è tardi Sono sempre no sempre no sempre no sempre no tutto nion, sempre nion, tutto nion, sempre nion uffa